Il Corecom svolge un servizio di qualità per i cittadini e le imprese Umbre che rilancia il ruolo delle istituzioni. Un servizio che crescerà e per questo c'è bisogno di più personale. Riteniamo che l'Assemblea regionale debba fare uno sforzo per fornire professionalità qualificate. Queste le parole della Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, Maria Gabriella Mecucci, durante la conferenza stampa di presentazione delle attività 2014 e delle linee d'indirizzo per il 2015 che si è tenuta a Palazzo Cesaroni a cui hanno partecipato anche le altre due componenti del Comitato, Stefania Severi e Maria Mazzoli. Il contenzioso per la conciliazione e la definizione delle controversie, ha detto Mecucci, è ormai diventato il core business del Corecom. Secondo i dati del Corecom, nel triennio 2012-2014 i vantaggi economici per gli utenti sono stati di 2.866.000 euro e i cittadini e le aziende hanno presentato al Comitato 8.147 istanze con un aumento negli ultimi tre anni del 62%. Solo nel 2014 si sono rivolti al Comitato 3.081 cittadini con un incremento del 14% sul 2013 e del 30% rispetto al 2012 e questa è tra le priorità del Comitato. Sono numerose le priorità ma ne voglio solo ricordare due. Una riguarda la nostra attività per quanto riguarda il contenzioso fra le grandi reti delle telecomunicazioni e i cittadini e le aziende. Bene, noi nel 2014 abbiamo rimesso nelle tasche dei cittadini 1.200.000 euro, il 33% in più rispetto all'anno precedente. Un grande lavoro molto importante al servizio della gente per il quale c'è bisogno di un personale qualificato e qui ce ne abbiamo poco. Il primo punto sarà rafforzare quindi il numero e il personale e la qualificazione di questo per andare avanti in questo importante progetto. La seconda questione che voglio sollevare è la questione della crisi dell'editoria, del sistema editoriale nel suo insieme della Regione. Una crisi che si scrive nella crisi nazionale che ha però delle sue specificità e rispetto alla quale dovremo lavorare per fare degli approfondimenti e alla fine anche delle proposte da presentare alle forze politiche e alle istituzioni per vedere il modo per intervenire. Altri progetti da portare avanti sono la TV di comunità, un'informazione che viene dal basso e che ha messo in luce attraverso servizi di natura giornalistica le attività delle associazioni di volontariato Umbra e i problemi dei territori dove operano. Il progetto nelle scuole con la polizia postale per sensibilizzare i giovani sui rischi della rete internet, il protocollo d'intesa con l'ordine dei giornalisti dell'Umbria per garantire una qualità dell'informazione e una valorizzazione delle competenze giornalistiche.